amici ed amiche del canale un caro saluto a tutti e bentornati anzi e benvenuti a questo nostro primo appuntamento con questo gioco che si chiama tank world tank modern tanks world tank come sempre ringrazio moderatori moderatrici gli amici le amiche del canale i sostenitori e tutti voi naturalmente che vi iscrivete ai miei canali social come sempre vi ricordo che nella descrizione del video oltre a trovare un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati fino al 70 per cento troverete anche un link per acquistare i prodotti della wonder share tramite il mio link di affiliazione oltre naturalmente a trovare il link per visitare il sito www.ipianibio.it allora ragazzi ho deciso in questa occasione di portare questo nuovo gioco vediamo un po se vi piace questo video fatemelo sapere e naturalmente hi everyone welcome to this video and welcome to this very first appointment with this free game as i say every time thank you so much to my moderators friends supporters of the channel and follow us thank you thank you thank you vediamo un po se riusciamo ad entrare in partita qua ecco qua quella è la blinda centaura oppla boom questo giochino che ovviamente lo potete prendere a gratis ed è anche abbastanza frenetica boom 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 vai vai ci 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 vai boom oh ah ci vediamo ma fat su su dai riprendiamoci quello che è il nostro approfitto naturalmente per salutare gli amici gli aficionados del canale saluto come sempre l'amico morino insieme al presidentissimo la zappa storta ahia ma fregata e naturalmente tutti voi che passerete a salutarmi mi sa che devo abbastare ancora un po pettino il volume della music bisogna prestare molta attenzione perché alcuni di questi carri sono particolarmente potenti e quindi non conviene fronteggiare come ho fatto io prima ma ma flancare 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 e io qua però sto andando nella tana oh ecco la mi stava seguendo al prossimo riavvio abbasso la musica perché a me risulta parecchio no ahi altra no ahi altra attenzione attenzione che a che ci è ho gi gg vai diciamo che un po più frenetico del solito questo giochino oh alla aspettava più di sapere un nemico a questo mi stavo aspettando beh loro hanno anche carri più pesanti prendiamolo alle spalle mancano 20 secondi oio mancato scucatella de manos e tuzzi e tuzzi allora bastiamo un po la musica che io la sento ancora parecchio alta quindi ecco qua dovrebbe andare bene per un'andiccia non l'ho superato allora vediamo un attimo una cosa che punto possiamo qui allora questo possiamo anche ah abbiamo questo qua ancora in fase di lavorazione va bene allora andiamo avanti ah ruota della fortuna giola uota giola uota tunzi tunzi oh buono un kit per curare l'equivaggio rock and roll oh yeah yeah e tuzzi tunzi aus aus morena tunzi tunzi oh yes scuora no oh 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 siamo fregati ahia ahia vieni ingastretto io porto tre ruote io guido l'apicarno altre ruote rapidamente mescate quattro mattina ecco 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 che vado pure quattro dieci guarda stanno lì sempre in agguato dunzi tunzi alle alle yes e porto tre ruote e porto tre ruote dai 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 veloce veloce boom ecco stavolta c'è andata abbastanza bene oh ma guarda dove stavano e va bene e porto tre ruote io guido l'apicarno 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 dell'apicarno della piange ma sede quattro mattina e e porto tre ruote io porto tre ruote e porto tre ruote dai dò e e e e e e è facile ovviamente di confondersi a colpo manca ed e porto tre ruote e porto tre ruote e porto tre ruote e porto tre ruote porto tre ruote e porto tre ruote e porto tre ruote boom bomba sganciate e porto tre ruote e porto tre ruote e porto tre ruote Gli portavo 3 rauta, BOOM, e ora porti sta bella. Ma se c'è la pagina che sta fattuto è ma lui. Faccio la net, puri scorsi e su meand. Allora cambiamo carro, vediamo un po'. Allora abbiamo questo qui, installare, vai. Armatura, attacco, decisamente. Dobbiamo migliorare un po' per quanto riguarda la velocità. Allora a qualche punto siamo, siamo a 3, siamo a 3, siamo a 3. Vai. Ok, vai. Allora passiamo anche un altro pochettino. Ecco qua. No. Ovviamente abbiamo un carro più lento, con una cadenza di fuoco decisamente più basso. E quindi io parto 3 rauta. Io guido l'avecar. Utre rauta la piaccia. Utre rauta la piaccia. Coprimi. Dai che l'ultimo colpo, un colpo di pedale e quella parti. Ci conosci un buon giorno di novembre. Io ti dice e ti ti amerò per sempre. Lasciavo piano i tuoi capelli di toro e intanto ti astringivo sul mio cuore. do. Dovevi stare a casa per le sette. ti do. Ti do un passaggio sulla mia lambretta. Io ti dicevo non ti preoccuparti. Un colpo di pedale e quella parti. Rotazione della torretta decisamente lenta. Noi. 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 là là boom Aia! Mi stavo aspettando. 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 Aia! Proviamo questo. Aia! 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 E vabbè Quelli sono carri corazzati Trappa lenta la cadenza Cambiamo carro Mettiamo uno più pesante Ecco qua Ui Gaia carissima Buon pomeriggio e tous e tous Amici ed amici Mi raccomando passate A salutare La nostra mitica Gaia Sei da parecchio tempo Qua in chat Gaia Devi scusarmi ma era un attimino preso Qua e quindi Per questo che non ho potuto Interagire con te In maniera Più Reattiva Comunque buon pomeriggio a te E grazie di essere Passate a salutarmi Ah ok Vedi che ti ho mandato Una richiesta di amicizia Non so se sei tu su Su facebook Dal mio profilo personale Ci abbiamo pure una musichetta Molto Rock and roll Rockeggiante come la nostra Mitica Gaia Mitica Mitica Gaia Mitica Mitica Gaia Mitica 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 Gaia Mitica Mitica Gaia Mitica Mitica Gaia Noi ci parliamo Corpio Boom Oh caccio Ce ne sta un'altra Là ce ne sta Non la sapevo Non la sapevo Oui John Buon pomeriggio Carissimo E bentornato Nel canale Welcome back to the channel Welcome to the channel Welcome to the channel Welcome to the channel Uh attenzione Uh meno male Boom Da Da Lecce pa Da Lecce pa Ah ma Nesta Colpa Nient che stiamo venendo a cercare e ti vengo a cercare e ti vengo a cercare anche se questi vanno alla fine ci fanno le ciapettone eccala mi stavo aspettando a disposizione John ma quando è che vai in live T devo fare una capatina anche da T aie 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 come dice il nostro anzi come è soprannominato io il nostro amico Aleasso ufficiale ragazzi diffidate dalle imitazioni di Aleasso ce n'è uno solo ed è il Power SuperTac pronto all'uso oh ma che sta oh tre anni fa faccia la miseria oh guarda guarda stusamente e vabbè e vabbè grazie al si sono venuti proprio si sono messi lì nel punto di di Sponaccio ce ne sono due quindi mamma mia ho fatto proprio fatto pena ma sti server oggi stanno stanno andando un pochettino a Rotolaus oh ma a quanto pare sono il primo su su Twitch qua che sto portando questo giochino qua sono il primo allora 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 John primo messaggio caro John thank you so much my friend welcome welcome to the channel welcome to the channel benvenuto in questo pazzo canale in questo momento con noi c'è la nostra mitica Gaia la nostra mitica moderatrice vediamo un po' John cosa ha portato di bello nel suo canale ah farming simulator ah ottimo allora ti consiglio un paio di canali se sei appassionato di farming il primo è quello del presidentissimo la zappa assorta che ti invito a seguire e naturalmente quando ti iscrivi al suo canale portagli i saluti miei poi ti presento un altro amico che è Moreno che forse sicuramente già conoscerai e un altro è Kaiman lori anzi ce n'è ancora un altro ma te ne fanno ancora un altro poi un altro che è il port farming e anche Macho King 82 che magari se ti va iscriviti segui loro ma se ti va segui anche me se ti fa piacere allora andiamo avanti ah allora li conosci allora il post poi ovviamente questi sono i primi che mi vengono in mente poi ce ne sono anche altri che trovi nella descrizione del canale allora 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 vediamo un attimo una cosa cambiamo carro mettiamo questo qua che mi sembrava leggermente più anzi ritorniamo con il vecchio con il primo ecco qua io probabilmente riprenderò più presto farming per il momento l'ho messo un po' da parte perché sto sto riorganizzando un pochettino tutta la programmazione del canale quindi poi a più presto ritornerà la programmazione classica del canale quella diciamo molto più mista vai vai cg 107 vieni a faccia la faccia della finestra per la mia oh yes uppla abbiamo fatto pure motocross moto da cross tu eri capace io no zumba zedù io e te vai fratello vai prendi tutto tuo love vai vai prendi prendi boom io mi copro andando cerco copertura qua ho frate eccolo qua stava facendo toc toc vai vai è tu è tu è tu picci picci allora ma 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 jimbo oh cavolo dai 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 su su c'è una bella cadenza di fuoco oh 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 meglio scappare meglio escapition huh nooo guarda la ho qua ma mannagia ah per un pelino non ci sono riuscito a fregarlo eccolo la bravo ah me l'ha dato uh me l'ha segnato il colpo ottimo snipera sniper bombe scanciate questo set non vi dispiace lo prendo io mi scordo sempre di guardare la mappa qua eccolo lì facciamo attenzione cerchiamo di colpire quello lì che sta lì per lì per farsi la cartella clinica sperando che questa vera non mi accadda rock and roll che hai fatto gg gg guarda la sce non lo so aia ho letto adesso gaia spero vabbè poi magari me lo scrivi in privata appena da un'acchiadina su su face spero sia roba di poco conti insomma dai 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 è l'ultimo è l'ultimo gg oh oh quello è un blinda aiaiaiai sta mettendo meglio evitare il contatto diretto vabbè uiii carissimo tranquillo crissa all'aspita non sapevo che fossi qui non ti ha nemmeno salutato scusa ciao come va un cacchio ha ragione oh scusami ragazzi c'era uuuu morino rider grazie ragazzi scusate nasce ero un attimino parecchio distratto allora crystal grazie ancora uuu è passato anche il nostro mi dico dj sassi alla console c'è dj sassi strano strano ma vero benvenuto buon completo allora scusate un attimo facciamo così ecco qua così ritorna un po più soft all'aria qua opla grazie morino grazie per il ride me ne so proprio accorto non ho capito perchè non mi arriva la notifica mi sa che devo mettere la campanellina quella lì sono personalizzata allora chissà tutto bene grazie ancora morino per il ride benvenuti agli amichi le amiche del canale di morino strano è una lì oh chiedovenia strano benvenuta strano sono io strano ma vero scusa il il gioco di parole qua ogni tanto facciamo un pochettino quelli che e è vero perchè oh strano non ha appena iniziato a seguirti grazie benvenuta ufficialmente nel canale del dello zio qua come mi chiamo e naturalmente grazie per la fiducia thank you so much facciamo una bella scucatella di mani a tutti quelli che sono restati nel ride di morino ma anche a quelli la che hanno detto ma io è questo ui ui scappiamo non vi preoccupate ragazzi lo so bene comunque un applauso va anche a voi come è andato a morino allora lo sai che ho ottenuto pure io il peggio ieri per un paio di volte non riuscivo a visualizzare il video il monitor poi mi sono accorto che praticamente ho detto ma fammi staccare la seconda scheda video che che ho montato ma fammi vedere se per caso risolvi il problema staccata tac e ho risolto il problema quindi in effetti a me faceva lo switch automatico ogni tanto mi passava dalla 1060 alla alla 470 quella live della serie quadro della nvidia e quindi a me non era il problema della diciamo così grave ma mi è andata di veramente di lusso è che ho fatto anche lo stacca e attacca con con l'alimentatore sono andata leggermente in panico poi ho detto ma fammi vedere un pochettino la situazione qua con me e infatti appena l'ho staccato mi sono reso conto che ha iniziato a funzionare e allora beh no spari spari wow bellissimo quello però quel carro fa fa molto molto male non vorrei dirlo oh ecco qua bum buona ce n'è uno mettiamoci così oh cavolo cavolus e beh che stiamo fatta vai tranquillo non preoccuparti se devi fare qualche altra cosa vai tranquillo non crearti alcun tipo di problema se devi andare vai non ti preoccupi tantano poi abbiamo modo di sentirci anche privato quindi no problem dai dai veloce 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 cool boom tommy vieni dalla zio tab vieni oh però questa se mi prende a me se no è finita quindi non vorrei dir e tuz e tuz e tuz e tuz wow bellissimo vai boom oh questa se mi dai veloce dai veloce veloce boom oh è sparito che mi ha fatto boom vieni vieni da piglio per tu vieni vieni da pigliare il pasticciotto saluto anche a proposta di pasticciotto saluto l'amico cirillo 1976 che è un carissimo amico streamer salentino te lecce vai cici vai vai cici spar spar boom oh oh chi è chi è chi è chi è ho visto oh sta là sta vai vai ah ma fregata vabbè oh due su due non male du 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 da 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 e il carrozzo ha fatto boom bam allora questo si chiama quello là dal titolo è praticamente un non so se conosci world of tanks diciamo che è un derivato un po' più low budget un po' più easy da utilizzare lo stile è quello lì diciamo sparatutto ma è un po' più più car armatistico quindi è un po' più insomma più quel genere lì ecco qua allora si chiama abbiamo detto modern tanks war infatti sono il primo in assoluto a portarlo su twitch cioè tu pensa guardate sono proprio il primo e quindi in effetti si diciamo che è una un simulatore in questo caso qui credo sia un po' più come si dice arcade questo è più un arcade non è un vero e proprio simulatore quindi rispetto a world of tanks e world of tanks blitz è un po' più più easy e da qualche giorno che lo sto provando sinceramente mi sto divertendo do 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 da 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 e zio d'app eccolo qua allora diamo un attimo ecco no queste ce le conserviamo per l'altra ecco allora battaglia la differenza fra questo per esempio world of tanks blitz è che a parte che ci sono meno giocatori poi è un po' più veloce è meno impegnativo rispetto a world of tank blitz oh chi sta sparito oh dai spara 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 ma guarda che ah ma non era quello lì che faceva la spara vedi è ancora molto ma molto più caruso e saranno tutti carusi diciamo che questo rispetto a world of tanks dicevo che ha un equipaggiamento un po' più moderno quindi boom dai l'ultimo l'ultimo boom boom e vabbè uuuh ottimo ed abbondante direi e toots e toots oh yes oh yes all right all right alla console dj sassy mixing for you dj sassy mixing for you you boom 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 io direi di scappare oh oh ma lo sapevo cacchio oh ci siamo fregati entrambi guarda là un colpo di ciascuno ci avevamo a disposizione dj sassy che fa l'arbitraus con crystal lincoln non so anzi mettiamo al var mettiamo crystal poi come arbitro principale mettiamo al morenowski e toots e toots uh da chissà vai vai danno aumentato vai 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 gg vai gg vai gg vai gg vai vai gg boom boom credeva di scamparsela se la voleva svignare fringuellaccio eccolo là il fringuellaccio house house il fringuellaccio vieni vieni che muovo spuco vai che ha fatto averse pure quello no non ci credo allora igor il terribile boom bombe scanciate boom bombe scanciate boom ma igor si è fatta la cartella bis cartella bis non ti preoccupare ti coprisco io ti coprisco boom 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 eccolo là grande aral gg un po' instabile la tacca di mira però tacca ho detto e non quella parola lì harold vai con il rock'n'roll e oggi zio dub è rock'n'roll oh yeah yeah yes uuuu attenzione abbiamo schivato un colpo un colpo di pedale a quella parte attenzione ragazzi uuuu gg vaju super gg uuu mazzi che sta lasciando guarda rosti vaj che lo fai guarda saluto il medico crystal di crystal opla allora 4 a 5 diciamo che è tutto sommato gg crystal allora se non ricordo male il nostro mitico crystal dovrebbe essere siculo giusto se non ricordo male che in diverse occasioni sono passato in live da lui e mi sono veramente divertito ah calabrese ok saluto gli amici le amiche calabresi ma anche gli amici siciliani e tutti quelli che ci conoscono ma che mi conosce a me ho un carissimo amico che è di Rende se non ricordo male provincia di Crotone grido un carissimo amico di vecchissima data boom ma questo lagga malamente lagga non vorrei dirlo ma pingga malamente o pingga bene bene crystal fortunatamente stiamo come si dice dalle mie parti stamma alert quindi è tutto a post quando stiamo a anzi un po' che stis cioè un po' allettate allora diciamo che tutto a posto tutto a posto tutto a posto spero lo stesso a proposito di team a proposito di tutto a posto saluto anche la mitica guerriera underscore gg che è un'altra carissima amica del canale house canana house oh ma chi se stanno proprio stanno proprio eeeh sogno il conte giacola vai 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 cici e vabbè ero lì per lì per farmi la cartella 0 a 2 mi hanno seccato due volte anzi mi hanno secciato come si dice la rosa dei venti segna se eh sì lavatura imbiancatura e stiratura come dicono come dice totò nel film miseria e nobiltà spero che questa non sia dire di me non sia vai cici vai spara spara veloce veloce sì era un nemico alle mie spalle decisamente ahahah ahahah qua non ho fatto nemmeno un punto cioè ma voi vi rendete conto mi sa che devo cambiare strategie devo fare le tuzze e tuzze a distanza che poi le tuzze e tuzze è una è una parola generica che significa tutto e niente quando uno non sa come come completare una frase mette e tuzze e tuzze ed è verbo complemento di specificazione soggetto predicato complemento a volte può essere anche un pensiero completo quindi eccolo la cia miseria si vabbè questo muovere un'altra volta qua giriamoci così eh si mi ha fregato non è buono sto mezzo abbiamo acchiappato uno tosto c'hanno il fisico tosto ogni mese d'agosto vengono tutti qua dar dar ah lì vieni vieni ho capito dai guarda là per quanto cia miseria eh lascia la miseria ovvero no zero zero 05 05 ma questo c'ha qualcosa ma questo secondo me è un cittone secondo me questo è un cittone e che non è quella parola con la d che utilizzano ecco qua che utilizzano gli amici e le amiche baresi che salutano naturalmente che significa un'altra cosa c non si può dire non sono mai te capite ma watch it città vieni guāo città vieni tu gu pasar vieni una una sì cosa un paio di di enemies dove sta dove sta dove sta ad onde stas a devo aspettare che sì il time error allora nel frattempo cambiamo carro prendiamo un'altra volta il m41 delta chilo a una cadenza di tiro più basso ovviamente ma armature attacco un po più sostanzioso all'installare perfetto qui ok installato oggi server sono un po intasati allora diamo un'occhiata in siamo quasi l'abbiamo quasi potenziata al massimo allora facciamo così mettiamo questo la cadenza di fuoco ci serve di più da un po ecco qua consegna 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 è pronto sono il corriere dite sono moreno il corriere c'è un bacco per voi e di cosa si tratta sono tre quintali di cipolle a mille lire all'uno ma c'è la miseria mille lire all'uno e amus e tutti i bus ma fate rispalmiare un pochettino di di situazione mettiamo questo va alle pendici del monte cucco nasce la società agricola bio i piani la genuinità dei nostri prodotti biologici al cento per cento sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli da noi troverai farro ceci lenticchie e farine di farro ceci e di grano duro scegli il vero bio italiano buono e genuino scegli i prodotti di i piani bio i piani bio www.ipiani bio.it ci trovi anche su facebook ed instagram www.ipiani bio.it ci trova www.ipiani bio.it ci trovi anche su un mers e i point moderati Eh ma questo ha messo il turbo per Raidan, eh, non vorrei dirlo. Ah! Aia! Aia! Oh, aia! E staccato! Ah! Oh! Oh! No! Troppo patente questa per riuscire a beccarlo, riuscire a fregarlo. Ci facciamo un'altra sessione e poi ci fermiamo. Era quasi andato. The best was yet to come. Era quasi andato. Allora, ma fra poco dovrebbe sbucare... Non male questa cadenza. Vai, vai, Gigi, vai! Dai, dai! Dai, dai, dai! L'ultimo, 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 l'ultimo! Boom! Uh! Questa cadenza è d'accordo. Boom! Mmm! Oh, io, io! Noi! Ci siamo ingastreti! Ci siamo ingastreti! Questo mi fri... Ecco là! For good, ma fa guagno! Dai, su! Vediamo un po' che se... Se riusciamo a completare... Ah! Abbiamo fatto quattro su... Eccolo là! Cinque! Ed. Quattro su! Quattro su! Quattro su! c'è anche skiff kamit ok quindi siamo andati decisamente meglio ma probabilmente alcuni di questi probabilmente non erano dei giocatori reali allora ragazzi io amici ed amiche io approfitto per innanzitutto salutare gaia a casa che ci è passata a salutare questo video termina qui quindi continuo con i saluti ringrazio john 90 ringrazio crystal ringrazio moreno stranon poi ringrazio moreno per a dj sassi ovviamente ringrazio moreno per il ride crystal per essere passato mamma mia è volato proprio il tempo allora l'appuntamento è per per gli amici di twitch che sono in live naturalmente l'appuntamento è per domani per gli amici di youtube come sempre vi ricordo che nella descrizione del video troverete un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati parto vi permetterà di acquistare giochi scontati fino al 70 per cento oltre naturalmente vi ricordo che nella descrizione del video trovate anche i miei link per seguire i miei canali social il link per visitare il sito dei piani bio il link il mio link di affiliazione alla wondershare che vi permetterà di acquistare non solo film ora scontato del 5 per cento ma anche tutta una serie di prodotti sia per dispositivi mobili quindi cellulari tablet ma anche per pc credo di aver detto tutto quindi ringrazio moderatori moderatrici gli amici le amiche i sostenitori e tutti quanti voi naturalmente che vi siete iscritti al canale se non lo avete ancora fatto naturalmente fatelo perché totalmente gratuito tutti i link come sempre vi ricordo che li trovate nella descrizione del video e quindi grazie mille a tutti thank you so much e stato buono a you grazie alle pendici del monte cucco nasce la società agricola bio i piani la genuinità dei nostri prodotti biologici al 100 per cento sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli da noi troverai farlo ceci lenticchie e farine di farro ceci e di grano duro scegli il vero bio italiano buono e genuino scegli i prodotti di i piani bio i piani bio mangio bene anch'io www.ipianibio.it ci trovi anche su facebook ed instagram www.ipianibio.it ci trovi anche su internet gogesspice Grazie a tutti